A Washington, nella primavera del 2020, aprirà Planet World, un museo dedicato alla lingua. Non una lingua in particolare, ma a tutte le lingue del mondo. Cosa si può visitare in un museo dedicato a qualcosa di così intangibile? Che la lingua sia intangibile e immateriale non è proprio vero, nel senso che la lingua si concretizza in testi scritti orali che quindi costituiscono dei reperti che si possono mostrare e al tempo d'oggi si possono mostrare anche attraverso mezzi multimediali. Per cui io non so cosa abbiano intenzione di fare esattamente a Washington, però è certo che si possono vedere scritture importanti della storia della lingua, si possono vedere discorsi, si può fare di tutto, test, prove di riconoscimento delle lingue e via dicendo. Quindi le possibilità al giorno d'oggi di fare un museo sulla lingua e sulle lingue sono tante. Naturalmente se la nostra idea è quella dei quadri esposti, fermi lì, che andiamo ad ammirare, beh no, questo è un tipo diverso di museo. Secondo Hand Friedman, l'ideatrice di Planet World, al museo ci si potrà divertire, ci si concentrerà sulla forza e sulla bellezza delle parole. Quando e come le parole possono essere divertenti, forti e belle? Noi tutta la vita giochiamo con le parole, quindi dipende ovviamente da chi organizza, chi allestisce il museo, però quante volte noi cerchiamo per esempio di indovinare il significato di una parola che non conosciamo sparando le cose più inverosimili? Oppure quante volte noi andando in giro ascoltiamo qualcuno che parla una lingua e ci chiediamo e scommettiamo magari quale lingua parla? Le idee possono essere molte, ovviamente dipende da che cosa vogliono fare, quanti costituiranno questo museo, ma si può fare molto e io dico non occorre andare molto lontano. Al museo del Novecento a Mestre ci sono alcune parti che riguardano le lingue italiane del Novecento, per lingua intendo l'italiano e i dialetti, qui qualcuno può andare appunto qui a pochi chilometri da Padova e vedere come ci si può divertire, sia pure in una cosa un po' parziale rispetto al museo che ha altre finalità. Esistono altri musei dedicati alle lingue? Allora, nel mondo sono credo una sessantina. Il più famoso, prima di questo, costituendo di Washington, era quello di San Paolo in Brasile, che ahimè è andato distrutto da un incendio, adesso è in ricostruzione. Ma anche in Italia ce ne sono. Una cosa interessante, sono tutti musei relativi a lingue minoritarie. Quindi siamo nel paradosso, che però non è tanto un paradosso, che in Italia c'è stata più attenzione per le lingue locali, quelle diciamo più a rischio di sopravvivenza, che non per la lingua italiana, che pure ha una vita di tanti anni. Di recente sono iniziati gli incontri del gruppo di lavoro o per la creazione del Museo della Lingua Italiana. Quali sono le realtà che collaboreranno all'ideazione? Attualmente, diciamo, la palla è in mano al Ministero dei Beni Culturali, che ha coinvolto alcuni enti e istituzioni culturali e alcune persone. Alcune persone sono Luca Seriani, principalmente Giuseppe Antonelli, che sono il primo ideatore di una mostra sulla storia della lingua italiana che è stata esposta all'inizio del secolo agli uffizi. E l'altro è Giuseppe Antonelli, che l'anno scorso ha scritto un libro che si intitola proprio il Museo della Lingua Italiana, che ha dato il via al rinnovo, diciamo, del dibattito sul Museo della Lingua Italiana. Poi le istituzioni sono l'Accademia dei Lincei, l'Istituto Treccani, la Dante Alighieri e l'Accademia della Crusca e poi c'è l'Associazione per la Storia della Lingua Italiana, che è l'associazione disciplinare dei professori che si occupano di linguistica italiana. Professore, cosa ci può dire a riguardo? Beh, adesso è ancora troppo presto. Si tratta di valutare anche gli aspetti, diciamo, normativi. Un museo totalmente pubblico, affidato a una fondazione, non abbiamo ancora idea sulla sede. Quindi in questo momento è abbastanza, è troppo presto. Certo, per esempio, il libro di Antonelli aveva un'idea, che era quella di trovare dei corrispettivi materiali a momenti fondamentali della storia della lingua. Faccio solo un esempio della contemporaneità. La sua idea è di aprire e chiudere il museo, adesso non mi ricordo quale apre e quale chiude, con due motorini, quando ero giovane io. Uno che si chiamava Si e l'altro che si chiamava Ciao, che sono fra le parole italiane più conosciute al mondo. Ritorniamo sulla lingua italiana. Quanti anni ha? Questa è una bella domanda. Possiamo dire, da quand'è che abbiamo testimonianze scritte della lingua italiana? Abbiamo testimonianze scritte molto dopo di quando si è iniziato a parlare italiano e non più latino, secoli dopo. La data, diciamo, convenzionale è il 960, cioè l'anno in cui è stato stilato il placito di Capua che rappresenta la prima testimonianza scritta e ufficiale, sono gli atti di un processo sostanzialmente della lingua italiana, però abbiamo delle iscrizioni precedenti e, ripeto, una lingua. Quando arriva ad essere scritta vuol dire che ha alle spalle tanti e tanti anni, direi anche secoli, di uso orale che non ha lasciato per il passato attestazioni. Adesso sarebbe una cosa diversa perché riusciamo a mantenere reperti anche della lingua orale. Chiudiamo l'intervista con una sua opinione. Come mai in questo periodo storico c'è così tanta attenzione per la lingua? C'è forse il timore di perdere qualcosa? Io credo che ci sia più visibilità per le discussioni della lingua che una vera e propria maggiore attenzione. Se noi pensiamo a anni non molto lontani, ma quando non esistevano ancora social network, web, eccetera, per esempio il Corriere della Sera, quando la rubrica delle lettere era tenuta da Indro Montanelli, aveva moltissimi interventi sulla lingua. Quello che succede adesso, immagino, è che abbiamo i canali per rendere più visibile questo interesse, diciamo a volte un po' distorto, ma un interesse che c'è per la lingua italiana che è un po' una costante, un po' in tutte le lingue. Questo succede anche per le altre lingue europee. Quindi credo che ci sia questo. Questo spiega anche l'idea del museo. La lingua è una parte di noi alla quale molti parlanti, se non tutti, tengono molto.